Una buona giornata a voi tutti da Giuseppe De Vettis, cari amici, proseguimento di fine settimana con temperature che sono crollate, un po' di nuvole sui settori meridionali del Piemonte, sulla Liguria poi prevalentemente sereno nelle ore centrali del giorno, ancora verso il Cunese qualche modesto annuvolamento e verso sera si affacceranno un po' di nuvole ma per lo più innocue però guardate che temperature, rispetto ai giorni scorsi abbiamo avuto un vero e proprio crollo temperature quindi molto più gradevoli e sopportabili nel proseguimento del weekend guardate infatti avremo temperature massime addirittura comprese tra i 23 e i 26 gradi un bel calo visto che nelle ultime giornate abbiamo viaggiato su valori anche oltre i 30 gradi io per ora ho concluso, cari amici, buon weekend, ci riaggiorniamo nel prossimo appuntamento naturalmente seguiteci, arrivederci